Dopo la vittoria registrata nel campionato italiano invernale 2021 che ha visto i primi posti in diverse categorie grazie al gruppo degli atleti in gara, la Water Experience di Palermo organizza la prima tappa del campionato italiano di categoria di Stand Up Paddle e Paddle Board 2022, all'interno del quale è inserito proprio il Mondello Soup Festival. Al primo appuntamento del campionato italiano si sono già iscritti diversi atleti da tutta Italia. La manifestazione si svolgerà a Mondello dal primo al 3 aprile. Grande attesa per l'apertura di questo campionato, sarà un campionato davvero interessante perché si selezionerà la nazionale italiana di Stand Up Paddle e Paddle Board che rappresenterà la nostra nazione ai mondiali in Puerto Rico, ci sarà anche una gara europea in Danimarca e la nazionale sarà presente anche lì. Il Mondello Soup Festival è una manifestazione sportiva promossa dalla ASD Water Experience che nasce a Palermo con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso la cultura dello sport e l'aggregazione di appassionati di tutte le età. Il Mondello Soup Festival nasce quasi per gioco ma con l'intento di diventare una tappa di riferimento internazionale. Il primo anno abbiamo fatto 40 partecipanti, lo scorso anno siamo arrivati a 138, quest'anno siamo quasi sullo stesso numero purtroppo a causa di vari impedimenti legati al Covid che ancora non ci molla. Come può partecipare il pubblico? Basta recarsi sulla spiaggia di Mondello dall'1 al 3 aprile e assistere e tifare per tutti gli atleti che prenderanno parte alle varie gare.